Natale si avvicina e con lui ci sono i concerti Audimus. Non perdetevi il 6 di dicembre all'auditorium Venier di Pasian di Prato, i meravigliosi ottetti per fiati di Mozart, alle 20.30 sempre ad ingresso libero e poi invece tra dicembre e gennaio tre importantissime repliche di un concerto dedicato all'anniversario della scomparsa del maestro Canciani. 19 dicembre a Cercivento, sempre la sera, il 28 dicembre a Villa Giacomelli a Pradamano e infine l'11 di gennaio al Palamostre di Udine con un grande concerto finale. Tutti ad ingresso libero per ricordare il grande maestro Canciani. Non mancate, seguiteci sul nostro sito, seguiteci sulla pagina Facebook e prenotate una sedia in orchestra che sapete è possibile inviando una mail al sottoscritto gioia underscore francesco chiocciollalibero.it